Mi piacciono tanto gli articoli di Vittorio Corresio e di Arturo Iemolo, testimonianza di Paolo Borgetto, detto Pauline de Kett o Bon Dentuna, nato a Vignolo, classe 1897, contadino. Io ero il primo di cinque fratelli, la mia era una famiglia benestante, avevamo cinque vacche nella stalla, escluse quattro o cinque famiglie, noi, quelli de Tine, de Beta, i Liucciu, gli altri non so come facessero a vivere. C'era una grande miseria, come nevicava, la gente diceva, beati quelli che hanno pane e polenta. Vignolo era un paese clamà, ossia famoso, lo chiamavano il paese dei sessanta macellai, il povero che non gliela faceva proprio più ammazzava un capretto, lo metteva nella gerla, lo portava a vendere a Cuneo. Ogni sera arrivavano i carri da Entraque, Vinadio, Prandleves, carichi di capretti macellati. Ognuno ritirava i suoi e appena era notte incominciava la marcia attraverso il fiume Stura per fruttare il Dazio. C'erano come tante squadre, ogni squadra con la sua guida che andava in avascoperta per segnalare che non ci fossero le guardie. Ogni cravutè aveva otto o dieci capretti sulla schiena, frodava un soldo al chilo di Dazio ma poi i macellai ne approfittavano, pagavano un soldo al chilo in meno la carne non regolare. Su tre vignolin due facevano il cravautè, andavano a piedi a bagno di vinadio o a Castelmagno, arrivavano lassù dopo ore e ore di cammino, magari a mezzanotte. Compravano, poi camminavano tutto il giorno successivo per tornare a Vignolo, poi nella notte ripartivano per raggiungere Cuneo. Cosa guadagnavano? Non lo so. Erano sempre nella miseria, erano sempre senza soldi. Picchiavano le mogli, poi andavano all'osteria e le altre liti per pagare il conto. La verità è che erano dei disperati, avevano solo il vino per distrarsi. Tutte le feste, liti da pugni, liti da botte, all'osteria, perché quando si trattava di pagare il conto non c'erano i soldi. Eh, in quei tempi, là, i grossi, i potenti, avevano un bel comandare. I piccoli erano tutti fragili, senza soldi, sottomessi. La gioventù del paese litigava con la gioventù degli altri paesi. Litigavano tra giovani di borgate diverse. Già a San Michele c'era la lite. Se uno andava in un'altra borgata e ordinava un litro di vino, c'erano quelli del posto che gli prendevano il vino e così cominciava la rissa. Non parliamo dei giochi, della morra, un gioco falso, la morra. Nessuno che volesse perdere. Delle gran botte. Ma non si andava mai dai carabinieri. L'indomani tutto era giustato. Chi le aveva prese, le aveva prese. Tutto restava in famiglia. Nei nostri paesi, quando venivano i carabinieri, era un avvenimento. La voce correva. Antensium, i carabiniè, ossia, attenzione, i carabinieri. Oh, la tema c'era. Tutti avevano un pochino la coscienza non proprio pulita. Nei piccoli commerci c'era l'invidia. Magari 4 o 5 parenti discutevano dove andare a comprare i capretti. Poi ognuno partiva di nascosto. Chi arrivava prima comprava mancando ai patti. C'era gente che voleva commerciare ma non aveva un soldo sulla pelle. Allora chiedevano in prestito le 100 lire e facevano tutta la campagna dei capretti con le 100 lire ricevute in prestito dai ricchi. Se malgrado la miseria i giovani erano allegri? I giovani si divertivano tanto ad andare a veier. Io da giovane leggevo volentieri. Allora come andavo a Cuneo compravo un libro. Mi piacevano le storie dei reali di Francia. Bon d'Antona era un personaggio di quelle storie e mi è rimasto come soprannome. Le storie che leggevo sui libri andavo poi a raccontarle nelle stalle dove c'erano delle ragazze. Anche la storia di Monte Cristo la raccontavo e piaceva tanto. Le stalle erano serie. Bastava che il capofamiglia tossisse che noi ne avevamo già basta. Stavamo già zitti. Sì è vero c'erano anche le ragazze che sbagliavano. C'erano le ragazze madri ma venivano ripudiate. La comunità le giudicava colpevoli. Se non trovavano poi un vedovo le ragazze madri non si sposavano più. In quei tempi erano i genitori che combinavano i matrimoni e volevano roba. Soldi. Niente con niente fa la minestra chiara dicevano. Ma tu vuoi prenderti quello là? È la stessa cosa che abbracciare l'ombra di un gesso. Il ruffiano faceva da ambasciatore. Padre e madre lo mandavano a sentire. A proporre il matrimonio. Dicevano al ruffiano. Combina combina ti compriamo poi la cravatta rossa o un bel cappello. Il 15 dicembre del 1916 avevo 19 anni. Sono partito da soldato nei carabinieri. Ma ho chiesto subito di andare volontario al fronte. Mi hanno mandato sul tagliamento. A Codroipo. Nelle retrovie. Allora ho chiesto di andare in Francia. Ero fatto così. La guerra non mi faceva paura. Mi hanno assegnato al secondo corpo d'armata del generale Ardrizzi. Sono stato sulla Marna, a Reims, Bligny. Ero aggregato alla brigata Alpi. La comandava Peppino Garibaldi. Mi hanno congedato il 22 dicembre del 1919. Il 20 ottobre del 1920 ci sono state le elezioni. Io mi sono presentato nella lista dei militari in congedo. Nella lista dei combattenti. E sono uscito eletto consigliere. C'era il Partito Popolare con Galimberti e il Partito Liberale con Soleri. Ogni partito aveva i suoi galoppini che pagavano da bere nei due o tre giorni che precedevano il voto. Qualsiasi cosa avessero detto i comizianti la gente diceva sempre bravo. C'eravamo noi pochi, giovani, che capivamo qualcosa di politica. I vecchi gridavano. Bravo, hai detto bene. Ma non capivano. Allora era mica come adesso. Allora, l'elettore aveva già la scheda del voto in tasca. Tu chi voti? Chiedeva il galoppino all'elettore. Ah, non votare così. Te. Io ho già la scheda giusta qui. Gli prendeva la scheda. Gli ne metteva un'altra in tasca. Noi della lista dei combattenti non avevamo nessuna idea politica. Eravamo tutti ex soldati. La nostra lista è uscita in piena maggioranza. Una volta ho avuto una discussione con il nostro parroco, con Don Armando Cavallo. Nei nostri paesi si cominciava a parlare di socialismo. E Cavallera doveva fare un comizio qui, a Vignolo, dove dominava Soleri. Don Armando mi ha detto. Guarda, Paolin, il socialismo è un temporale. I liberali sono invece una pioggia lunga, continua, che fa del male. Aveva meno paura dei socialisti che dei liberali. Perché i socialisti erano ancora deboli, mentre i liberali erano forti e anticlericali. Lui, i liberali, li chiamava i massoni. Il 1922 è l'anno della marcia su Roma. Nel 1925 ci sono state le elezioni. Io ero un fascista, come combattente. Nel 1926 mi sono iscritto al partito fascista. Mi sono buttato lì. A Vignolo non è successo niente. Abbiamo messo su una mezza sezione con il colonnello Miravalle del secondo Alpini. Saremmo stati una dozzina. Ancora adesso non so perché mi sono iscritto al fascio. I contadini stavano lì, passivi, a guardare. Poi sono venute le ultime elezioni. I fascisti si sono autonominati. Ed è finito tutto. Dopo un po' è incominciata la paura a parlare. La paura di sbagliare. La sezione da 12 iscritti è arrivata a 15. Niente di più. Io, nel 1930, non ho più preso la tessera. Non mi piaceva più il fascio. Non mi piaceva essere comandato dagli altri. Eh, i contadini non capivano niente. Non dicevano di no. Stavano lì, zitti. I contadini, quando hanno poi visto che la guerra di Abissini andava bene un po', si sono entusiasmati. La propaganda batteva forte. Si parlava tanto dell'impero. I contadini dicevano, eh, laggiù ce n'è della terra. Laggiù i giovani troveranno del lavoro. Ma poi hanno incominciato a dubitare. Perché i fascisti alzavano un po' troppo la voce e volevano dominare la gente con la forza. Noi del paese, tra noi, parlavamo liberamente. Ma guardandoci bene in faccia. Che cosa penso della politica di oggi? Eh, non vedo chiaro. E mi fa un po' paura. Io voto socialista. Perché sono convinto che sia questa la strada. Io la seguo la politica. Mi piace tanto leggere il giornale. Soprattutto la politica estera mi interessa. Mi piacciono tanto gli articoli di fondo. Gli articoli di Vittorio Corresio e di Arturo Iemolo. La cronaca nera non mi interessa. Disgrazie, ne abbiamo già troppe, nelle nostre case. Ho soltanto la terza elementare. E a volte gli articoli di politica sono difficili. E allora li leggo due volte. E poi, nei giorni che seguono, cerco di capire se quel certo discorso era giusto. Cioè, voglio la verifica. Leggo anche un po' di sport. Io da giovane ero un giocatore di pallone elastico. Leggo anche qualche libro. Oh, Vittorio Corresio è molto in gamba nei suoi scritti. Sfiora la legge con molto coraggio e dice la verità. La nostra campagna oggi è ancora un po' come quella di una volta. Tutta sparsa, frazionata. Se noi decidessimo di motorizzarci, dovremmo vendere la terra per comprare il trattore e le altre macchine. Io, questo errore, non lo faccio. Noi paghiamo, facciamo fare i lavori da chi è specializzato nel conto terzi. Abbiamo sei vacche e tiriamo avanti. Eh, la vita è migliorata. Molto anche. Nei nostri paesi i giovani fanno i muratori o lavorano alla Michelin. Hanno tutti la loro macchinotta. Non hanno da pagarsi l'affitto di casa. Coltivano ancora il pezzetto di terra e vivono bene. Possono mangiare e risparmiare. Abbiamo una gioventù qui a Vignolo di grandi lavoratori. Una gioventù da invidiare. I nostri giovani di oggi sono pieni di volontà e di iniziativa. Oh, io sto volentieri in mezzo ai giovani perché li ammiro. Ma la campagna andrà a perdere. A me piace la campagna. La lavoro. Se fossi giovane e avessi almeno 20 giornate di terra, non andrei in fabbrica. Farei il contadino. Terrei 20 bestie nella stalla e sarei a posto. Con nessuno che mi comanda. La fabbrica rovina la salute. In fabbrica la vita è più sfruttata. Quando uno fa 8 ore attaccato a una macchina, per forza diventa nervoso. In campagna la vita è più sana. Ma spendono grandi miliardi per mandare l'uomo sulla luna con tutto quello che ci sarebbe da fare per l'umanità. Vanno sulla luna anche perché stanno preparando la guerra di domani. Grazie. 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 Grazie.